Ascoltando semplicemente Santa Maria delle Mole attraverso Roberta S. 9 novembre 2010 a cura di VB guida Allora l'insoddisfazione che vibra in voi è un qualcosa che in realtà appartiene alla vostra mente incapace di tradurre quel ricordo dell'essenza che è in voi Allora voi potete trovare un riscontro diverso semplicemente fermandovi un momento a guardare la vostra vita così come è adesso senza osservare i fatti e le persone ma ascoltando semplicemente il battito del vostro cuore o semplicemente il respiro che i vostri polmoni consentono alla vostra persona Sappiate dedicarvi al vostro essere attuale così come siete ora Sappiate avere cura del vostro corpo perché la vostra persona attuale è quella che vi porta a percepire e ad essere presenti nei momenti che vivete e se ci sono delle infiltrazioni se ci sono delle vibrazioni di conflitto tutto il vostro essere ne risente in maniera nociva per voi Per purificare la vostra dimensione attuale non dovete fare altro che rilassarvi nel modo più semplice che trovate Non c'è una strada non c'è un indirizzo da seguire c'è la vostra capacità di ritrovare voi stessi in qualsiasi momento e in qualsiasi modo Ognuno di voi ha una propria capacità di ritrovare il contatto con il proprio essere interiore Basta semplicemente volere essere se stessi senza il pensiero di come dovete essere Vi imponete alcuni comportamenti che la vostra educazione vi suggerisce essere positivi ma noi vi diciamo che quando siete soli con voi stessi potete abbandonare queste vecchie convinzioni e potete realmente ritrovare la vostra capacità di rilassarvi Poiché la vostra società è intervenuta fin troppo sul vostro essere attuale indicandovi anche come rilassarvi e come trovare pace in voi Invece ognuno di voi deve ritrovare la propria pace senza doversi aggrappare ad altrui capacità ad altrui convinzioni Ognuno di voi è un universo è realmente così Vi diciamo che ognuno di voi è un universo è un qualcosa di infinito Voi sminuite il vostro essere pensando alla vostra personalità ma il vostro essere non ha nulla a che fare con la vostra personalità o meglio la vostra personalità è solo una parte del vostro essere una parte provvisoria diciamo così una parte che vi serve attualmente e che è importantissima non va disprezzata ma va vista per quello che è una sola parte non la totalità Allora voi potete percepire l'infinito perché voi siete l'infinito siete nell'infinito Se non potete comprendere con la vostra mente il concetto di infinito potete però percepire con le vostre vibrazioni di essere parte di un qualcosa di più grande di infinito appunto perché la vostra vita scorre e voi scorrete nella vostra vita e non viceversa Grazie 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 Grazie